Per una riforma della riforma arcadica, oggi insomma incomincieremo a parlare di quello che avviene dopo l'Arcadia, quando, come vedremo in questo testo di Ludovico Antonio Muratori, si fa un passo ulteriore, quindi con l'Arcadia sicuramente ci si libera dalla retorica barocca, senz'altro, ma il passo ulteriore è quello che avviene soprattutto nella seconda metà del Settecento, cioè quello di rendere la letteratura qualcosa di utile, di vantaggioso per la vita di ciascuno di noi, insomma. Quindi va bene l'Arcadia come rivolta antibarocca, però l'Arcadia era diventata, con l'andare del tempo, il passatempo ozioso di persone che non sanno come impiegare il loro tempo, o comunque qualcosa di molto rigido. Ecco, quindi è vero, c'erano state tante affiliazioni dell'Arcadia in tutta Italia, ma era diventata una specie di moda che stava lasciando ormai il tempo che trovava. Invece, dicevamo che nel Settecento, molti studiosi, molti intellettuali, e sulla scorta anche dell'illuminismo proveniente dalla Francia, pensano che la letteratura debba essere qualcosa di utile. Il primo degli studiosi che noi analizzeremo e di cui leggeremo un testo è appunto Ludovico Antonio Muratori. Ecco, tra l'altro è un grandissimo erudito Ludovico Antonio Muratori. Rinasce a Vignola, Modena, nel 1672 da una famiglia di modeste condizioni, avviato agli studi in una scuola dei Gesuiti. Nel 1695 viene ordinato sacerdote. Continua ad essere, anche nel Settecento, una scelta, come dire, fra le più frequenti, insomma, per gli intellettuali, quella di essere prete. Pensate al musicista Antonio Vivaldi, pensate a Giuseppe Parini, eccetera. Lui comunque a un certo punto diventa prefetto della Biblioteca Ambrosiana a Milano, ottiene l'incarico di storiografo e archivista della famiglia d'Este a Modena, muore a Modena nel 1750, quindi in realtà Vico e Muratori, di cui parleremo oggi, sono ancora degli intellettuali, in sostanza, della prima metà del Settecento. La volta prossima invece parleremo di Beccaria, parleremo dei fratelli Verri, eccetera, e quindi parleremo della seconda metà del Settecento. Ma già nella prima metà del Settecento, per esempio, appunto, Muratori, fa un tipo di lavoro ben diverso rispetto a quello dell'Arcadia, no? Non si ferma, insomma, alla letteratura. Compie studi di erudizione, di storia. Scrive, per esempio, il Rerum Italicarum Scriptores, cioè un libro sugli scrittori di cose d'Italia. Oppure scrive le Antiquitates Italice Medievi, le Antichità Italiane del Medioevo. Oppure scrive gli Annali d'Italia dal principio dell'Era Volgare fino all'anno 1749. Insomma, non le fantasie, le false fantasie, anche se vogliamo un po' i miti arcadici che abbiamo visto nelle poesie, appunto, dell'Arcadia, e se vogliamo anche il Metastasio. Vi ricordate che abbiamo letto un brano tratto da un testo di Metastasio per un'opera. ma vero storico, il vero storico. Questo sarà molto importante per noi in tutto quanto il Settecento, poi vedremo anche e soprattutto in Alessandro Manzoni. Ecco, è utile. Ad esempio, lui fa un'opera, no? in cui spiega che hanno ragione gli estensi a rivendicare Comacchio al Papa. Ecco, abbiamo visto, infatti, che lui è lo storiografo e archivista della famiglia degli estensi, no? E quindi, nel corso di questi anni, in cui lavora, appunto, per gli estensi, fa una specie di libretto in cui spiega, appunto, come abbiano ragione, insomma, gli estensi a rivendicare questo territorio al Papa. C'erano delle contese tra lo stato della Chiesa e, appunto, Ducadeste, insomma, riguardo ad alcuni territori. Questa è la dimostrazione di come la letteratura si interessa della realtà, dei fatti, di qualcosa che ha una sua rilevanza, per esempio, in questo caso, una rilevanza politica. Inoltre, un'altra cosa importantissima, è che la letteratura, in questo periodo, non è solo il frutto dell'estro di una persona singola, ma è il frutto del lavoro di un'equipe. È molto importante, anche nell'opera di Muratori, l'insistenza sul lavoro di gruppo. Infatti, Muratori fu anche un organizzatore, oltre a essere, appunto, dicevamo, uno studioso, un erudito, e riuscì a riunire, attorno ai suoi progetti, intellettuali di ogni parte d'Italia. Ecco, quindi, la fedeltà al vero, la paziente ricerca erudita, la disposizione critica, il legame tra ricerca erudita e problemi dell'età contemporanea, sono alcuni degli aspetti più interessanti dell'opera di Ludovico Antonio Muratori. Cerchiamo di andare avanti adesso con la slide successiva. Ecco, quindi, in questa slide, vedete, sottolineiamo il fatto che è stato anche un uomo di fede, un prete, sottolineiamo la sua intensa attività di ricercatore, il grande scopolo nella missione sacerdotale, l'acuta sensibilità per i problemi economici e sociali delle classi meno ambienti, meno abbienti, scusate, e per questioni di equità giuridica e fiscale. Anche su questo ci viene in mente Alessandro Manzoni. Anche Alessandro Manzoni aveva questo forte senso di giustizia, come il muratore, no? Ecco, quindi, di uguaglianza. Anche queste cose, ovviamente, ci fanno venire in mente quello che sta succedendo in Francia, iniziando a succedere in Francia, insomma, in quei tempi c'è una riflessione sul concetto dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli uomini, egalità, no? Bene. Una Repubblica di Ingegni. Ecco, infatti, lui concepisce un progetto di un'accademia nazionale che raduni maggiori intelletti della cultura italiana, associandoli in una Repubblica di Ingegni che promuova il progresso letterario e culturale dell'intera penisola. E allora scrive i primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia in base a quello che abbiamo già detto, anticipato, sulla sua insistenza sul lavoro di gruppo, cioè sul creare dell'equip di intellettuali. Ecco, poi scrive anche... Ah, vuoi ancora vedere la slide precedente? Eccola, eccola qua, la slide precedente di approfondimento dove si cita uno dei vari... E ha scritto tantissimo, come vedete, Ludovico Antonio Muratori. Ha scritto testi molto interessanti e che hanno gettato delle basi di un'innovazione anche nel campo della poesia. Scrive, infatti, della perfetta poesia italiana nel 1706 in cui narra lo sviluppo della storia letteraria d'Italia dal Petrarca in poi, gettando le basi per quella che sarà poi la critica. In realtà lui è considerato un grande erudito, ma non il primo vero e proprio critico e storico della letteratura italiana sarà De Santis dell'Ottocento. Comunque, già lui individua in questo testo gli scopi educativi e morali della poesia. La poesia ha un posto di rilievo nella formazione dell'individuo, a patto che non sia considerata più importante della conoscenza storica e filosofica. Ecco, quindi, la poesia ha un valore di formazione, ha un valore etico e questo lo ritroveremo quando studieremo Giuseppe Parini. Ecco, un importante poeta del Settecento. La poesia può essere uno strumento per istruire attraverso il piacevole, ma essendo frutto della fantasia ha un ruolo meno rilevante rispetto alla ricerca guidata della ragione. Ecco, come vedete, Moratori comunque predilige la storia, predilige il vero storico e quindi prende partito, ecco, senz'altro più per, tra virgolette, la prosa che non per la poesia. È un po' quello che farà lo stesso Manzoni alla fine della sua vita. La nozione di buon gusto. Nelle sue riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, scritte nel 1708, Moratori delinea un ampio progetto culturale per rinnovare gli animi impigriti degli italiani. Alla base del suo metodo, il Moratori pone la nozione di buon gusto, il conoscere e poter giudicare ciò che sia difettoso o imperfetto o mediocre nelle scienze e nelle arti per guadagnarsene e ciò che sia il meglio e il perfetto per seguirlo a tutto il potere. Come vedete riflette a 360 gradi, Moratori, no? E questo è infatti il periodo in cui gli intellettuali non si interessano più solo di letteratura, gli arcadici si interessano solo di poesia, letteratura, eccetera. Invece gli intellettuali nel 1700 generalmente aprono i loro orizzonti. Lo vedremo la prossima volta parlando di Pietro Verri e Alessandro Verri soprattutto. Quindi alla scienza, alla tecnica e anche all'arte. Ecco, poi qua altri testi che abbiamo già citato e questi si trovano nella nostra pagina F51 del nostro libro. Cioè le antichità estense ed italiane, informazioni storiche per ricostruire le origini della Casa d'Este e dimostrare che essa ha pieno diritto al possesso di Comacchio Ferrara rivendicate dalla statua da chiesa. Questo è il discorso che vi facevo prima. i rerum italicaron scrittori gli scrittori di cose italiane. Informazioni storiche sul periodo compreso fra VI e XVI secolo. Si gettano le basi per una storia medievale più oggettiva tra virgolette perché fino a muratori del Medioevo si parlava in un modo molto pregiudiziale insomma molto grossolano ecco è superficiale e infatti poi scrive i muratori l'abbiamo già detto lo ripetiamo le antiquità tesitalice medievi ricostruzione della vita italiana del Medioevo nei suoi vari aspetti lingua usi e costumi legge milizia commercio e monete atteggiamenti morali e religiosi ecco dicevamo un metodo storico più rigoroso infatti muratori interpreta i fatti in base a rigorose testimonianze storiche non accetta spiegazioni provvidenzialistiche ed esprime una posizione fortemente critica verso la chiesa e i papi ecco quindi un esempio di prete perché aveva detto che praticamente era un prete Ludovico Antonio Muratore molto attento all'uguaglianza sociale ai problemi delle classi più umili ma critico nei confronti del potere della chiesa abbiamo visto prima ricordate era dalla parte degli estensi contro il papa per una controversia territoriale è molto critico quindi contro il potere della chiesa ad esempio nel periodo del Medioevo sì sì ah è vero sì deve esserci no potrebbe esserci anche il fatto che quest'opera potrebbe essere stata pubblicata a posto ma in quel senso là infatti sul nostro libro rerum italicarum scriptores ecco uscirono ecco esatto sì sì uscirono rerum italicarum scriptores negli anni 1723 1738 il venticinquesimo libro uscì postumo nel 1751 ecco perché c'era scritto 1751 bene ritorniamo adesso agli annali della storia d'Italia che abbiamo già accennato scritti tra il 1744 e il 1749 attraverso questi libri Muratori vuole divulgare la storia presso i lettori comuni ecco questa è una cosa molto importante la vedremo poi soprattutto ovviamente con Manzoni la divulgazione della letteratura c'è un pubblico diverso lettori comuni quando pensiamo a lettori comuni lo vedremo poi soprattutto con Manzoni si tratta della classe della borghesia ovviamente emergente in questo periodo soprattutto nell'ottocento l'autore ecco le vicende italiane vanno dall'inizio dell'era volgare fino alla pace di Acquisgrana del 1748 quindi avvenimenti si può dire contemporanei alla stesura di questo libro l'autore lascia in secondo piano un'indagine sulle cause e si limita a narrare gli avverimenti vuole rispettare la verità per offrire motivi di riflessione sulla storia passata e presente e insegnamenti per il futuro ecco qui scusate riguardo alla storia però vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per la storia della letteratura tutto sommato Muratori ancora oggi è considerato un grande erudito ma fare lo storico per noi moderni è qualcosa d'altro cioè vuol dire anche individuare le cause degli eventi storici cause e conseguenze comunque lo stile chiaro discursivo linguaggio semplice utilizzati da Muratori gli permettono di farsi comprendere da molti e di contribuire ad un'ampia diffusione della conoscenza storica ancora scrive anche della pubblica felicità oggetto dei buoni principi quindi riferito questo indirizzato ai principi illuminati questo è il periodo del Settecento e quindi anche il periodo dell'assoluto scusate dell'assolutismo illuminato cioè praticamente ci sono dei governanti insomma come avete studiato probabilmente anche in storia che influenzati dalle nuove idee per favore volete smetterla influenzati dalle nuove idee soprattutto dei filosofi illuministi cercano di applicarle anche a livello del governo dell'amministrazione dello Stato ecco ai principi illuminati il compito di garantire la felicità dei sudditi con l'applicazione dei criteri di utilità e di moralità nel singolo individuo è una spinta naturale verso il bene privato è socialmente necessario indice di virtù saper rinunciare però a una parte di esso cioè è naturale pensare al proprio interesse all'interesse personale della propria famiglia e basta invece è chiaro che l'interesse comune deve essere almeno una parte una porzione della del nostro dello scopo insomma del nostro agire deve essere indirizzato a questo bene comune non a un bene privato ma a un bene pubblico l'opera come anello di congiunzione con le moderne teorie dell'illuminismo confronta il discorso sulla felicità di Pietro Verri questo intellettuale illuminista milanese di cui parleremo la volta prossima andiamo adesso dicevamo alla pagina F56 dove è riportato un testo del nostro di Ludovico Antonio Muratori tratto dai primi disegni della Repubblica Letteraria d'Italia pertanto questo testo si interessa moltissimo è molto importante volevo dire per noi per la questione della letteratura per il passo il passaggio che deve essere fatto per il superamento dell'Arcadia si rivolge quindi Muratori dicevamo a questo gruppo di intellettuali che tra l'altro abbiamo già detto anche lui concretamente aveva contribuito a formare insomma spiega che è necessario andare oltre l'Arcadia riformare le istituzioni che pure l'Arcadia aveva contribuito a migliorare e in particolar modo se la prende con le accademie sono state delle buone istituzioni ancora oggi per esempio pensate all'Accademia della Crusca o altre accademie quella del Cimento Galileo che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della cultura però c'è il problema che adesso spesso in questi luoghi ci si perde dietro a oziosi passatempi poetici nel caso dell'Accademia dell'Arcadia bisognerebbe invece dedicarsi a studi più solidi e più utili solo in questo modo l'Italia entrerà di nuovo a far parte del concerto culturale europeo l'Italia nel Settecento è evidentemente come dire un po' secondaria nell'orizzonte culturale europeo al centro come ben sappiamo c'è la Francia per essere nuovamente al centro è necessario svecchiarsi un po' liberarsi da questi luoghi che stanno diventando un pochettino schematici e rigidi come le accademie e quindi ritornare al tempo in cui ad esempio nel rinascimento l'Italia sì che era un faro dell'Europa e poi c'è stata invece la decadenza del Seicento e su questo beh almeno su questo si può essere d'accordo con quelli dell'Accademia dell'Arcadia perché almeno hanno contribuito a superare quel periodo di decadenza del Barocco non parrà forse buon consiglio il preparare con una satira l'attenzione vostra a quanto si deve proporre quindi io adesso sto affrontando un argomento serio e quindi magari qualcuno di voi potrebbe pensare che non è proprio una buona idea iniziare a introdurre questo argomento con una satira insomma quindi con una critica pungente ma pur bisogna cominciare con qualche puntura a svegliare chi dorme evidentemente questo brano è proprio un po' all'inizio di questo suo testo sui primi disegni della Repubblica letteraria d'Italia perdonerete al desiderio di chi cerca il meglio e l'ottimo se mi metterò a dir male di ciò che solamente è buono insomma permettetemi di incominciare con una critica incominciando a dir male di qualcuno di qualcosa in particolar modo incominciando a dir male dell'Arcadia in Italia non c'è oramai città che non abbia un'accademia anzi due anzi tre stiamo un po' esagerando dice il nostro Ludovico Antonio Muratori con queste accademie soprattutto le accademie diretta filiazione dell'Accademia dell'Arcadia si stanno moltiplicando nell'Italia della prima metà del Settecento e talvolta anche più secondo il numero grande o scarso degli studiosi è assai glorioso co-testodome d'Accademia e con esso intendiamo un'audunanza di letterati che in certi giorni dell'anno con uno o due ragionamenti sopra qualche materia e con vari sonetti ed altri versi recitati esercitano il loro sapere e la loro vena quindi va bene lasciamoli pure esercitare il loro estro poetico le loro capacità ma se fatti Accademie sapreste voi dirmi a qual fine siano istituite qual profitto alle città qual miglioramento alle lettere a Portino il fine può essere stato nobile ma ora in buona conscienza non può dirsi che il frutto corrisponda all'intenzione è il discorso che vi ho fatto sulla letteratura che deve essere utile per Ludovico Antonio Muratori la letteratura non deve essere più fine a se stessa deve servire deve essere utile quindi servire al bene alla felicità potremmo dire della gente degli uomini argomenti per lo più assai leggeri insomma questi tali accademici dell'Arcadia si incontrano per discutere di cose molto frivole perché quasi sempre destinati a trattare dei grandi affari d'amore è ironico evidentemente in questo punto Muratori punta il dito contro la predominanza assunta nell'Accademia dell'Arcadia della poesia amorosa versi e poi versi e non una parola solamente certe bagatelle canore sono il massiccio delle nostre delle nostre accademie le sciocchezze messe in versi la parola bagatelle canore un pochettino ci potrebbe anche far venire in mente il metastasio perché ricordate che c'era un certo legame allora tra la poesia e la musica sì che tutta la fatica degli accademici si riduce ad andare a caccia di un breve applauso incantare per un'ora le pazienti orecchie degli ascoltanti adunque non sarebbe grande merità il dire che queste adunanze altra gloria non possono sperare che quella di recare un transitorio di letto sì d'accordo ci possono far piacere questi incontri diciamo dell'Accademia dell'Arcadia ma si tratta di un piacere passeggero e questo di letto medesimo ove gli accademici siano in disgrazia delle muse vi si cerca bensì non radevolte ma non vi si trova e scusate il piacere sì d'accordo se si tratta di buoni poeti ma se in queste adunanze dell'Accademia si trovano accanto a dei bravi poeti anche dei poetastri è chiaro che meno anche il piacere se vogliamo non dirò ad non vi si trova non si trova neanche il diletto non si trova neanche il piacere a partecipare a questi incontri ora mi si dica è gli da commendarsi cotanto la straordinaria cura di innalzare riguardevoli imprese di riprendere nomi nuovi di stabilire leggi e fare altre simili cose per dover poi solamente spacciare in pubblico alcuni versi forse dilettevoli certamente poco utili al pubblico cioè cosa serve insomma trovarsi diciamo come dire produrre delle opere poetiche anche su nuovi argomenti le leggi sono quelli che reggono l'arcadia ogni accademia che impongono che essa si doti di imprese raffigurazioni accompagnate da motti e che ciascun accademico assuma un nome consono alle caratteristiche dell'accademia ecco cosa vuol dire prendere nomi nuovi ne riparleremo quando diremo che Parini partecipò ad un'accademia e si fece chiamare ripano e upilino stabilire leggi perché c'erano delle regole ogni accademia aveva le sue regole eccetera eccetera quando comunque queste cose sono poco utili questo è un voler usurpare la giurisdizione dei giovinetti scolari questo è un po' voler rubare il mestiere agli studenti nei quali elodevole imprese il gareggiare pubblicamente con poemi e il trattare solamente quegli studi che si convengono alla loro età ma che letterati maturi facciano per professione lo stesso mestiere e vadano accattando applausi e vadano insomma ricercando degli applausi con la sola poesia con quattro versetti intonati da loro all'ascoltatrice brigata ho gran paura che non lo possa digerire il satirico e che non vogliano soffrirlo senza ridere gli uomini gravi allora io dice sono un satirico ecco questo è un termine abbastanza significativo muratori si pone come un osservatore mosso da principi morali che osserva quindi con spirito critico anche la letteratura ricordate questo aggettivo quando appunto leggeremo il giorno di Parini che si caratterizza proprio per questa impostazione satirica di critica la critica pungente e quindi non posso sopportare questo tipo di letteratura che ormai è diventato del tutto inutile ragione dunque vorrebbe che coteste adonanze fossero più utili e sode cioè che fossero più utili che servissero a qualcosa che sia qualcosa di reale qualcosa che ha attinenza con l'esperienza di tutti ricordiamo ricordiamoci di questa cosa quando la volta prossima spiegheremo il caffè insomma l'accademia dei pugni quella sì che sarà un'accademia che sarà utile cercherà di essere utile alla società e richiederebbe la reputazione degli accademici e il bisogno delle lettere che qui vi si trattassero materie più luminose più adatte a illuminare elementi ma sottolineiamo evidenziamo se volete anche vediamo un po' se abbiamo degli strumenti per evidenziare sì sì evidenziamo questo luminose evidenziamolo perché è un termine che ci fa venire immediatamente in mente l'illuminismo quindi la luce della ragione questo è proprio il secolo dei lumi e vi si facessero traffico ancora delle scienze e dell'arti erudite noi vorremmo pertanto le accademie non già sbandite non è che vogliamo cacciare eliminare distruggere le accademie ma migliorate le vogliamo solamente migliorare noi le brammeremmo non solamente dilettevoli alle orecchie ma utili ancora agli ingegni sì di chi parla come di chi ascolta ecco quindi leggiamo questo testo come una sorta di manifesto della letteratura utile del settecento la pompa cioè vuol dire la retorica l'esibizione un po' artificiosa e superficiale della sola poesia non ha altra virtù che quella dei fiori bastanti a ricreare la vista ma non appascia la fame dei letterati veri e massivamente in questi tempi che non sono poetici al pari del secolo prossimo passato quindi come vedete la sola poesia sì potrebbe essere anche bella no? ma non è utile cioè non dà quell'alimento ecco qui una sorta di metafora o di similitudine se volete no? e non è in grado quindi diciamo così di nutrire quel desiderio di quel desiderio diciamo dei letterati veri e quindi degli intellettuali che badano al bene alla felicità dicevamo dell'uomo no? degli intellettuali veri è massimamente in questi tempi che non sono poetici al pari del secolo prossimo passato si riferisce al fatto che il 600 è stato definito il secolo della poesia mentre il 700 è il secolo della prosa in un certo senso ed effettivamente la prosa è prevalente se vogliamo in questo secolo farebbe si perciò miglior uso delle nostre accademie quando in esso noi volessimo trattare seriamente l'arti e le scienze non già per mendicare plausi leggeri e per piacere al volgo degli ignoranti ma per profitto proprio per beneficio delle lettere ecco quindi cosa si dovrebbe fare nelle accademie no? ecco ricordate il testo che lui ha fatto sulle scienze sulle arti no? cioè che la letteratura non sia fine a se stessa e queste nel vero tacitamente si raccomandano gli ingegni felici d'Italia e da loro cercano e loro sperano avanzamento di gloria già in alcune di queste celebri adunanze con piacere noi rimiriamo coltivati di studi della poetica e trattate le regole della lingua italiana con vantaggio certamente dell'una e dell'altra ecco ho già fatto riferimento all'accademia della Crusca nella quale si rifletteva e si riflette ancora oggi sulla lingua italiana oppure altre accademie in cui si riflette sulla poetica più gloriosa fatica hanno impreso altre accademie trattando l'erudizione ecclesiastica la filosofia sperimentale morale la geografia ed altri importantissimi argomenti quindi liberarsi dagli argomenti monotematici insomma ma interessarsi anche ad altri argomenti ma questo ludevole studio di pochi dovrebbe ormai abbracciarsi da tutti e svegliarsi una nobilissima gara fra le accademie italiane il cui fine fosse l'accrescimento delle scienze e delle arti e la gloria della nazione o ecco quindi il progetto il progetto culturale di Ludovico Antonio Muratori cioè indirizzare gli studi gli interessi insomma alle scienze e alle arti e alla gloria della nazione restituire dignità dicevamo alla cultura italiana sormontata da quelle straniere dicevamo in questo secolo ricollocandola al posto che gli compete che era stato il posto ad esempio che aveva centrale che aveva nel periodo del rinascimento possiamo francamente affermare col consentimento ancora degli oltramontani persino i francesi quindi devono riconoscerci che l'Italia fu il seggio e il reame delle lettere allorché la fortuna della Grecia passò alla Repubblica Romana quindi quando i romani conquistarono la Grecia da quel momento in poi Roma l'Italia sono sempre stati al centro della cultura torno a ella stessa a divenire nella patria quando la Grecia medesima nel secolo quindicesimo rimase preda alla crudeltà e all'ignoranza dei turchi insomma l'Italia tornò centrale in quello stesso periodo insomma del cinquecento quando la Grecia fu occupata dai turchi allora fu che della nostra Italia di nuovo succiarono le altre province dell'Europa il vero sapore delle scienze fu nel periodo del rinascimento che diciamo le altre parti d'Europa appresero quasi come succhiarono usa questo termine come dire la ragione il sentimento insomma succhiarono il vero sapore delle scienze dall'Italia il nostro lume dilatatosi oltre ai monti formò poscia un giorno continuo alle lettere il lume delle nostre conoscenze si espansi oltre le alpi dando vita ad un giorno perpetuo per la cultura ecco anche questa volta andiamo a sottolineare la metafora del lume se riusciamo oh mamma mia non so se se riusciamo perché opzioni puntatore vediamo evidenziatore dobbiamo evidenziare il lume ecco ci siamo riusciti dilatatosi oltre ai monti si si formò poscia un giorno continuo alle lettere ecco quindi era un periodo quello ad esempio quello del cinquecento in cui era l'Italia che illuminava la cultura europea che per più di due secoli dura con tanto credito degli ultimi tempi non inferiori punto anzi superiori in molte cose agli antichi muratori è convinto della superiorità dei moderni e sugli antichi dei moderni sugli antichi ma nel secolo antecedente purtroppo però nel secolo del seicento l'Italia non so come lasciò rapirsi da altri popoli cioè si lasciò superare da altri popoli non già le lettere ma il bel pregio della preminenza in alcuna parte delle lettere e trascuratamente permise che altre nazioni più fortunate certo non più ingegnose le andassero avanti nel sentiero della gloria che l'avea di anzi insegnato ad altri dice però lamenta questo fatto però muratori che nel secolo precedente cioè nel secolo del seicento dimenticandosi dimenticandoci noi italiani di quello che eravamo stati in grado di fare noi stessi nel secolo del rinascimento ci siamo lasciati superare da altri non è già meraviglia che le scienze a guisa degli imperi vadano girando e si trapiantino per varie province con varia fortuna esattamente come gli imperi e quindi i governi i reami eccetera anche le scienze possono variare e quindi diciamo così possono essere nuclei generativi di intelligenza e a livello scientifico o culturale in genere ora determinate nazioni e ora ad altre questa trasmigrazione delle lettere è nota per mille esempi forse un giorno avverrà che l'Europa tutta ritorni al buio dell'ignoranza e che nel tempo stesso o la sola Cina o altre parti dell'Asia o l'America stessa fioriscano per la cultura delle arti e delle scienze potrà accadere come forse sta accadendo nei nostri tempi esatto adesso che l'Europa non sia più al centro della cultura mondiale ma che siano altri ad esempio altri continenti come l'America o l'Asia la Cina eccetera ciò che può sembrare a quanto strano sia il sapere che non guerre civili non invasioni di barbari non mancanza di scuole o di ingegni non tirannia di regnanti non altre pesti furono a cagione che nel secolo precedente giacesse l'Italia alquanto dimenticata del suo valore degli studi la cosa strana però è che nel seicento noi siamo caduti così in decadenza non perché ci siano state guerre civili o invasioni di barbari o mancanze di scuole eccetera l'Ozio solo per avventura fu quel mostro che a poco a poco avvelenò le menti e le distorse del faticoso cammino della virtù siamo stati noi stessi con la nostra indolenza con la nostra pigrizia l'Ozio così sintetizza muratori la causa principale della decadenza della cultura nell'Italia del Seicento non lasciando luogo a quel nobile rossore a quella generosa invidia che doveva nascere nei nostri maggiori a rimirare le proprie campagne vinte in fecondità dalle nostre vicine non ci siamo vergognati il rossore si riferisce alla vergogna non ci siamo vergognati del fatto che altri stranieri ci superassero nel campo culturale dobbiamo nulla di meno rallegrarci con esso noi cioè dobbiamo rallegrarci con noi stessi che da 30 anni in qua ecco abbiamo detto che questi sono i primi disegni della Repubblica d'Italia quindi diciamo dall'inizio del secolo più o meno dall'inizio del settecento più o meno una si perniziosa influenza sia in parte cessata essendosi riscossi da sonno primiero primiero cioè dalla insomma dalla loro perniciosa dannosa sonnolenza non pochi ingegni d'Italia e crescendo di giorno in giorno l'ottimo gusto all'amor della fatica in essi ma questo vi è più crescerà ove si impadronisca nel nostro cuore un virtuoso disio di gloria dobbiamo alimentare il nostro desiderio di gloria ove ci stia davanti agli occhi il profitto o della chiesa o proprio o dei posteri la reputazione dell'Italia eccetera eccetera notate anche il profitto della chiesa perché l'abbiamo già detto muratori fu sacerdote di esemplari virtù quindi si scaglia ad esempio abbiamo visto contro la chiesa nelle sue antichità medievali eccetera ma solo allo scopo di far migliorare la chiesa così come vuole che migliori la cultura italiana del tempo la beatitudine di chi si consacra lo studio non intesa se non da chi vede dentro immerso la speranza di crescere in fortuna cioè la speranza di crescere in ricchezza che presto o tardi o per una via o per l'altra suole accadere ai veri prudenti letterati e molti altri somiglianti motivi ognuno dei quali può essere gli animi nostri bastevole incentivo per le belle imprese queste sono le motivazioni per cui ci dobbiamo dare da fare capite per bene nostro in generale degli intellettuali dell'Italia anche della chiesa dice ora noi che appunto bramiamo restituite in Italia al loro primo splendore anzi illustrate maggiormente le lettere vorremmo poter destare gli ingegni tuttavia dormigliosi ecco qui ritorniamo a questa immagine gli ingegni che sono raffigurati così un po' assonnati e un po' intorpiditi anche da questo vizio eccessivo delle accademie ritorniamo ciclicamente al discorso da cui eravamo partiti e a crescere coraggio e stimoli a chi già veglia e corre e però preghiamo tutti a unire però vuol dire perciò qua preghiamo tutti ad unire le forze loro in una gloriosissima gara col proporre brevemente ciò che noi andiamo rivolgendo nella mente nostra per beneficio comune per il bene di tutti Muratori sintetizza e chiude così ci fa capire qual è il suo progetto cioè una sola accademia una repubblica letteraria che abbia il compito istituzionale di occuparsi non solo delle belle arti ma anche delle scienze e delle arti erudite purtroppo questo progetto non andò in porto ma costituì la base per la realizzazione dell'impresa collettiva dei rerum italicarum scriptores gli scrittori di cose italiche attorno alla quale Muratori riuscì a mobilitare un gran numero di intellettuali italiani